ciao buonasera grazie di essere qui sono ringrazio molto il circolo dei lettori per avermi coinvolto in questa cosa diciamo mi trattengo su di me soltanto tre secondi solo per dire che mi fa molto piacere sia fare anche questa cosa col circolettore insieme alle altre che facciamo spesso e sono molto grato a Mauro di avermi appunto coinvolto su un terreno diciamo io sono restio abbastanza restio alle presentazioni di libri perché implicano che uno debba leggere i libri e le vite dei presentatori di libri ve lo dico diciamo sono fatte di trovarsi all'ultimo momento senza aver letto il libro essere in straordinario ritardo questo è uno di quei casi in cui diciamo arrivavo preparato perché è un libro che parla di musica e di canzoni ed è un terreno diciamo che è capace di incuriosirmi e tentarmi molto in generale ancora di più appunto nel caso in cui l'aveva scritto Mauro un'altra cosa che fa il presentatore di libri la fa soprattutto quando non ha letto i libri però diciamo è una tentazione che viene sempre e che sembra una cosa di straordinaria banalità da impreparazione però invece è sempre fondata la prima curiosità a meno che non tu non ti trovi davanti a degli autori e degli scrittori seriali professionisti che scrivono molti romanzi appunto ciclicamente frequentemente così come certi musicisti pubblicano molti dischi perché quello è il loro lavoro però la prima curiosità in molti casi è chiedersi una domanda terribilmente banale cioè perché hai scritto questo libro e in questo caso diciamo la domanda ha un pezzo pezzo di risposta con cui il libro si apre ma appunto è un pezzo di risposta in questo caso appunto molto 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 grosso molto importante molto rilevante e che però è un pezzo è un po' abbozzata quindi diciamo farei subito parlare Mauro rispondendo a questa domanda e anche completandola con una domanda che faccio che chi ha letto il libro capirà chi non ha letto il libro appunto Mauro e glielo spiega che è come sta adesso Sto bene devo dire buonasera a tutti Grazie Sto bene sorprendentemente per guarda come era partita però comunque per chi non avesse capito come è successo praticamente alla fine di gennaio del 2020 ero a casa e ho cominciato a vedere dei stranamente dei pezzi del campo visivo che si spostavano da una parte all'altra dalla parete di fronte e ho detto c'è qualcosa che non fa allora sono andato in ospedale e lì il colpo grosso mi è venuto lì e insomma sono stato due mesi in ospedale quindi in realtà non è stata una robetta da poco però ho cominciato a rendermi conto quando ho cominciato a tornare ad avere rapporto con la realtà che in realtà mi ero dimenticato un sacco di cose non mi ricordavo e che cos'era stato? era stato un ictus e fra l'altro sai ho cominciato a la prima cosa che ho cominciato a mettermi di buon umore è stato purtroppo rendermi conto che di quelle ricoverate in ospedale ero quello messo meglio che è una roba che non è bella da comunicare però ti fatteranno un respiro di sollievo perché ero circondata da gente che non parlava più che non ricordava più che non era capace di disegnare che non era capace di scrivere e doveva ricominciare tutto da capo e in fondo io ho dovuto ricominciare un po' solo con la memoria allora sai avevo anche per fortuna una collezione di cose di oggetti che facevano parte del mio vivere per esempio i dischi e quindi mi sono messo a riascoltare i miei dischi e poi dicevo ah però questa cosa qui allora chiamavo guardavo l'ho fatto con questo con questo chiamavo e dicevo senti ma tu ti ricordi raccontami e quindi piano piano come c'è un ricordo se ne porta due poi due se ne portano quattro e piano piano la memoria ha cominciato a tornare a un certo punto mi sono reso conto che con una percentuale molto alta avevo ricostruito la mia memoria che è un cioè in fondo poter fare il giro col proprio passato è è un gran colpo di culo no? perché perché sì perché prima di tutto sei vivo questa cosa ti sveglia la mattina e dici che figata e poi e poi cominci a a fare un po' un bilancio no? e dici ma se tu puoi ma guarda per quella roba lì mi sono sbattuto così tanto ma non ne valeva meglio tanto la pena mentre invece per altre cose magari avevo sottovalutato eccetera eccetera quindi sai rifare il giro e così ti permette di vivere un rapporto anche tranquillo no? con quello che ti è successo fai i conti e dici vabbè poteva andarmi peggio poteva andarmi meglio solo qui e va bene così quando dici ricostruito la memoria significa che tu hai diciamo progressivamente cominciato a ricordare quelle cose e ora te le ricordi oppure che molte sono dei pezzi che ti hanno raccontato che tu hai assorbito no no poi ho cominciato a ricordarmene e ho cominciato a ricordarmene tutte e poi ancora adesso ogni tanto mi viene in mente delle cose cioè ogni tanto devo telefonare a qualcuno e dirgli senti mi sono dimenticato di ringraziarti però lo faccio adesso sperando che basti però però insomma sono non posso lamentarmi cioè ho il cervello mi sembra che funzioni insomma qualcuno sostiene di no però però insomma va bene e e quindi di cosa potevo lamentarmi niente e e però a parte questa cosa della memoria quel periodo lì diciamo sei stato molto male hai avuto paura? boh sì un po' sono stato molto sono stato male non non ho avuto tantissimo paura forse perché sono un incosciente un po' quindi io sono uno stupido ottimista cioè se penso una cosa alla fine andrà tutto bene se va male fa niente insomma sono per cui in realtà mi sono fatto andare bene le cose certo certo che mi sono successi anche cioè quello che mi è successo ho avuto qualche coinvolgimento un po' strano per esempio ancora adesso sto facendo rianimazione scusami sto facendo riabilitazione e però con questa mano la muovo un po' meno di una volta il che non è bellissimo se suoni e a parte la battuta su non è bellissimo cosa significa che riesci a suonare o no? sempre un po' di più sono per strada diciamo il mio obiettivo è tornare a suonare bene ci vorrà ancora un anno un anno e mezzo però ho la destra certo sono un pianista con una mano sola una mano con sei dita cioè muovo questa mano con tutte e cinque le dita per fortuna tutte e alla destra le muovo una per volta che non è tutto ma è molto ecco è un bicchiere più che mezzo pieno sì sì dai risposto appunto alla domanda e da dove nasce questo libro il libro di Mauro è un un'autobiografia un'autobiografia molto intorno alla parte così artistica e professionale della sua vita uno si chiede ci sono ogni tanto delle aperture dei passaggi delle riflessioni appunto anche su vicende più personali o persone che ti sono state vicine però sono appunto momentanee e poi si torna molto a parlare appunto delle cose che facevi con la musica e col tuo lavoro uno si chiede se sia una specie di riservatezza appunto su quella parte lì oppure se la tua vita sia stata veramente così tanto soltanto la musica il tuo lavoro no allora io sono sempre stato un suonatore bulimico suono tanto suonavo tanto poi siccome ho una grande e facile tendenza a mettermi nei guai soprattutto da un punto di vista economico quindi ho fatto un sacco di scelte perché poi hanno condizionato il resto della mia vita sai se tu fai il passo più lungo della gamba una volta va bene ma se lo fai spesso hai dei passi più lunghi non hai un solo passo lungo da dover compensare però però poi alla fine ho lavorato tantissimo e questo è un po' infatti ogni tanto facevo l'elenco delle cose che ho fatto e mi dicevo mamma mia quanta roba ho fatto cioè un po' ho omesso di metterle perché erano tante però le faccende personali sentimentali ho quasi volutamente evitato di metterle perché alla fine casomai ci metto un altro libro la prossima volta beh perché guarda secondo me diciamo almeno è un pezzo interessante non per curiosità delle vicende personali ma perché e sentimentali e le relazioni con gli altri ma perché si immagina che tutto quello che tu racconti in questo libro diciamo sia molto anche in un rapporto di causa-effetto con le relazioni personali no oh sì certo d'altronde al cuore non si comanda e quindi si fanno cose si desiderano cose si spera che vanno in un modo poi invece vanno in un altro sai la vita la vita è complicata fortunatamente e quindi e quindi così guarda ti porto su una cosa di relazioni personali che invece diciamo è più contigua o citata nel libro ovvero le relazioni personali fra i musicisti in effetti diciamo adesso che lo dico penso è un libro molto di relazioni personali fra i musicisti ci sono una quantità di persone citate e descritte straordinaria è una curiosità che mi che mi è venuta diciamo moltissime curiosità adesso approfitto di averti qua per provare a soddisfarne alcune di quelle appunto che dalla parte di qua del pubblico e dei fan non si percepiscono una curiosità che mi è venuta è e ci sono dei casi di questo genere compreso il tuo personale nel libro cosa succede esattamente quando le band dicono qualcosa non funzionava più no? che cosa vuol dire esattamente quella cosa lì per cui qualcuno decide di lasciare una band credo che ognuno di noi sia il suo comportamento sia condizionato dalla capacità di mediare e la capacità di mediare cambia si modifica e a seconda dei periodi storici degli anni in cui succede eccetera eccetera ci sono persone che sopporti di più persone che sopporti di meno e poi in realtà quello che ti differenzia da ognuno degli altri è l'elenco degli obiettivi veramente degli obiettivi primari che ti importa a condividere o no e per esempio nel mio caso a un certo punto ho cominciato a rendermi conto che stavo era come se sai quando fai i concerti fare i concerti è un po' come dire messa cioè tu arrivi e come se si dice oremos e tutti dicono oremos e tutti ripetono la cosa è la stessa cosa un po' i concerti tu vai are you right yeah e poi are you happy yeah we are happy tu dopo un po' cioè potresti dire mangi carne o pesce hai capito che è la stessa cosa cioè non ha più molto peso e soprattutto quello che mi sono reso conto cambiava cambiava poco cambiava troppo poco era il ruolo il ruolo che io avevo cioè quello mi chiede ho cominciato a chiedermi ma tu da grande cosa vuoi fare io frequentavo non so i musicisti frequentano bardo musicisti no allora ci si trova la sera e trovi quello che sta facendo molto di te molto più di te anche e trovi anche quelli che stanno facendo un po' meno o molto meno che facevano e non fanno più e allora ho cominciato a vedere questi non so frequentavo un bar che si chiamava Arlati a Milano e e lì si trovavi tutti non so gli ex cioè gli ex i Dick Dick i Camaleonti l'Equipo 84 tutte queste cose no e tu ho cominciato a vedere che in realtà li incontravi ed erano vestiti come dieci anni prima no e e un po' come si guardavano in giro come se non avessero capito bene bene cosa gli fosse successo cioè erano passati di moda e non se ne erano resi conto non avevano capito il perché e a un certo punto quindi ho cominciato a dire a me stesso hai voglia di diventare un ex artista oppure uno che invecchia insieme al suo pubblico o vuoi diventare un musicista ho risposto naturalmente che volevo diventare un musicista e a quel punto mi sono reso conto che sapevo molto poco e quindi ho ricominciato da capo a un certo punto avevo bisogno di 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 cominciare a studiare di approfondire una serie di cose perché sapevo molto poco perché soprattutto quando fai parte di un gruppo di successo e suoni tanto in realtà cominci a suonare sempre più spesso a suonare sempre più spesso gli stessi pezzi a non avere tempo da studiare a non avere tempo anche di meditare o di pensare non hai tempo di leggere sei in giro a suonare vai in un posto dici messa e poi torni in un altro posto sai noi con la BFM a un certo punto facevamo abbiamo fatto di media 200 concerti all'anno quindi in sei anni o sette erano 1200 1400 concerti 1400 volte celebration va bene voglio voglio bene hai capito però voglio suonare alla mazzurra su quello per esempio ho una curiosità com'è la millecentesima volta che suoni celebration stacchi la spina cioè la suoni ti coinvolge comunque perché probabilmente l'hai scritta tu o comunque hai fatto parte di questa cosa forse ti coinvolge anche perché ti piace cioè l'impressione di certi musicisti non di tutti ma di certi musicisti è che quando comunque cantano per la millesima volta la loro canzone continui a piacergli o oppure sì un po' ti piace ancora no onestamente devo dire se l'hai scritta ed eri un anno di grazia hai scritto una cosa perché ti appartiene in qualche modo e quindi rivisiti il parco delle tue emozioni però è bello se anche ti hai messo delle condizioni di suonare a qualcos'altro se non suoni mai a qualcos'altro ma suoni sempre quello dopo un po' diventa il cappio al collo che è la che è diciamo la questione che poi genera quella contraddizione tra il fatto che il pubblico vuole invece sentire sempre le stessi pezzi e quelli famosi eccetera e tutto quanto e il musicista invece delle volte ha voglia di fare altro mi ricordo diciamo fra tutti io quello di cui da giovane ero più seccato condividendo questa seccatura era Francesco De Gregori che arrivava ai concerti e faceva tutti i suoi pezzi diciamo un po' trascinati o in modi diversi da come li aveva registrati con l'impressione che non avesse voglia di farli proprio uguali a come li aveva registrati quello secondo me era De Gregori che fra l'altro è uno molto più simpatico di come appare è molto più simpatico molto più intelligente cioè tu dopo un po' sì è un vezzo anche hai presente Bob Dylan? sì Bob Dylan va a fare i concerti e proprio stravolge le canzoni se tu l'ascolti dopo un po' dici ah ma questa qua è Blood in the Wind ma non l'avevi riconosciuta no? probabilmente è un modo di sentirsi vivo oppure un modo di vendicarsi anche un po' cioè mi obbligo a fare i miei pezzi però te li faccio così male che se ti piacciono lo stesso allora va bene ti perdono però non è facile non è facile perché perché poi anche alcuni bis a volte li fai anche due volte per sera quindi la somma diventa il doppio del doppio quindi però io devo dire quando quando ho finito la mia avventura con la PFM ho tirato un sospiro di sollievo cioè ho proprio ho cominciato ad andare a suonare con altri a suonare cose che dovevo imparare cose diverse poi io era anche un periodo in cui avevo voglia di cambiare stile musicale cambiare genere il Progressive è stata una musica bellissima ci ha dato tutte le possibilità del mondo per la prima volta e unica volta i musicisti italiani erano rispettati e ascoltati all'estero le nostre composizioni venivano ascoltate cioè ci sentivamo appagati in qualche modo ed è stato l'unico periodo in cui è stato così perché poi come abbiamo smesso se tu pensi che i Maneskin sono stati il primo gruppo dopo la PFM quindi 50 anni dopo ad avere loro un grandissimo successo non è un successo minore però in quei 50 anni che ci sono stati in mezzo non è successo niente abbiamo venduto un sacco di canzoni in Sud America abbiamo venduto in Russia abbiamo venduto c'è un italiano vero è una è un incubo estetico che che mi hanno pagato tutti duramente però però questa è stata la verità e noi abbiamo fatto sai non era la prima volta nessuno l'aveva fatto prima quando siamo arrivati siamo arrivati in Inghilterra abbiamo suonato poi hanno pubblicato il disco eccetera eccetera e noi di colpo ci siamo ci siamo trovati a fare noi abbiamo fatto credo 5 turni europei 5 turni inglesi 3 turni americani solo in America noi abbiamo fatto più di 170 concerti e i miei ne hanno fatti ancora di più ma però noi piaceva suonare devo dire per assurdo provavamo molto poco suonavamo tanto e quindi sperimentavamo dal vivo si improvvisava molto troppo troppo cioè il Progressive si è suicidato per eccesso di note cioè a un certo punto a soli di un quarto d'ora interminabili c'era ammetto che c'era qualche ragazza che frequentava i camerini eccetera eccetera e durante la sua di batteria noi andavamo a fare gli scemi con le ragazze che non è carino che tornava anche comodo che tornava comodo però non è carino devo dire beh anche sì se si vede dall'altro punto di vista ma cioè noi purtroppo abbiamo pensato che il fatto di poter improvvisare che è il grande regalo che il blues ha cominciato a fare ognuno di noi è che poter improvvisare ci permettesse di fare qualunque cosa mentre invece il concetto di improvvisazione è un concetto un po' diverso da quello cioè l'improvvisazione vera è la composizione momentanea cioè tu non è che suoni quello che ti pare provi a scrivere qualcosa di nuovo allora a volte funziona a volte non funziona certo più fai luoghi comuni meno rischi e corri in genere l'equilibrio tra le due cose ti permette di fare novità e però nello stesso tempo non fare troppi errori però però suonare suonare è meraviglioso questa è la verità e quindi quando ti viene chiesto quando lo puoi fare se lo puoi farlo lo fai tutte le volte che puoi noi abbiamo cominciato a suonare troppo a un certo punto a un certo punto ho cominciato a dirmi ma dobbiamo fermarci ho provato a dire dobbiamo fermarci avevamo già lo studio per l'ottata in America per fare il disco nuovo e a quel punto ho dovuto scegliere per andare a lasciare e ho lasciato ma era per me è stato necessario a un certo punto ma perché non mi divertiva più se mi fosse divertito come una volta non avrei mai mollato probabilmente molti di quelli che continuano a fare la stessa cosa tutta la vita è che questa cosa li diverte fino alla fine sono contento per loro ma questo percorso appunto che è assolutamente lineare e sensato e convincente come lo racconti adesso e come lo racconti nel libro ha avuto invece anche dei dubbi rimpianti comunque hai lasciato non voglio essere cinico ma hai lasciato diciamo una band di straordinario successo in un momento di straordinario successo con delle ottime prospettive non hai mai pensato forse ho fatto una scemenza magari superata quella fase di sfinimento beh quando ero inseguito dal mio direttore di banca sì ma vabbè però hai pensato al concerto della reunion sì esatto però di fatto io mi divertivo troppo a suonare mi piaceva molto suonare mi è sempre piaciuto suonare tanto e quindi suonare suonavo musica nuova avevo bisogno di imparare stavo attento crescevo e poi cioè per dire quello che ho che ho imparato e realizzato nell'ultimo anno della PF che già ero ancora con la PFM e poi negli ultimi 4 o 5 anni successivi mi ha permesso di fare qualcosa di molto bello dopo che non avrei fatto cioè se io non fossi andato via dalla PFM non avrei scritto cosa da mai valeva la pena certo che ne vale la sua pena no poi e poi devo dire la realtà italiana era era molto più ricca e e piena di creatività di quanto di quanto quegli stupidi discografici si fossero resi conto cioè noi noi eravamo eravamo il paese della nuova compaglia di canto popolare il paese dei Musica Nova il paese del gruppo Fonca Internazionale del canzoniere del Lazio poi di Giovanna Marini di tutti quelli che hanno lavorato sulla tradizione popolare di lei di insomma era c'era tanta roba c'era tanta roba e c'era tanto da fare anche e quindi bisognava solo mettersi lì e ascoltare e non essere pigri perché un po' sai se fai sempre le stesse cose dopo un po' è anche per pigrizia no? e ero troppo mangiato dalla voglia di fare per essere pigro senti a proposito del direttore di banca e anche dei musicisti che hai citato prima appunto che a un certo punto passano e passavano di moda c'è una appunto curiosità che io cerco sempre abbastanza di soddisfare ma non riesco mai bene ad afferrare quando parlo con musicisti o per persone che lavorano con i musicisti che è come funziona il sostentamento economico dei musicisti non parlo di quelli che hanno straordinari successi e che appunto però uno che ha suonato nei dick dick oppure alcuni dei molti musicisti che tu citi nel tuo libro molti dei quali hanno dei nomi completamente sconosciuti oggi no? nel momento in cui non sono più sotto i riflettori beneficiano ancora a sufficienza di successi passati si riciclano in qualche modo come si mantengono i musicisti diciamo non famosi? beh sai fai quello che ti capita a tiro cioè il molti molti si dividono dipendono un po' da ogni persona perché se tu ti metti a fare qualcosa di nuovo qualcosa di tuo per esempio non so prendiamo un esempio prendiamo Arestavolazzi stavo per dirti Arestavolazzi Arestavolazzi fantastico bassista degli area dopo aver vissuto questa sua vita di musicista in giro per tutta l'Italia spesso sottopagato perché gli area erano un po' sfruttati dal movimento diciamo cioè quando c'era bisogno si faceva una festa in qualunque posto chi chiamiamo? chiamiamo gli area che venivano pagati meno degli altri c'è stato un periodo che gli area andavano a fare le date in trino perché non avevano i soldi perché si era rotto il pulmino non riuscivano a ripararlo e Arest è uno che a un certo punto quando è morto Demetrio eccetera l'anno dopo ha detto beh adesso basta io mi metto a fare jazz che è quello che voglio fare e da allora lui suona jazz spessissimo è felice suona benissimo cioè e di cosa campa? eh? e di cosa campa? ce la fa ce la fa benissimo cioè suonano cioè magari tu vai a suonare in un club invece di darti cioè di darti qualche centinaia di euro magari ti danno cento euro però suoni tutte le sere e fai i somme e te la cavi hai capito? ovviamente devi un po' commisurare il numero di richieste a quello che ti puoi permettere insomma l'importante è non avere le mani bucate io avevo le mani bucate quindi io ho dovuto sbattermi il doppio mentre invece quindi appunto eventuali grossi successi che tu abbia avuto non hanno una coda lunga per cui tu continui a guadagnarne molto negli anni successivi io devo dire sì ma io ho anche fatto molti debiti per cui in realtà devo mettere pezzi di qua e di là nel senso che avere uno studio di registrazione e decidere di infilarti in quel tipo di prospettiva rende la vita piuttosto complicata perché perché devi comprare macchine di grande livello devi per esempio adesso tu hai presente cosa vuol dire dover usare la corrente elettrica per tre o quattro regie i banchi di quel periodo lì del periodo degli anni 80 degli anni 90 non si possono mai spegnere quindi i banchi sono accesi 24 su 24 siccome sono accesi 24 su 24 l'aria condizionata è accesa 24 su 24 se tu cominci a avere tre regie 86 per 87 cioè non è facile non è facile davvero per esempio adesso è un periodo difficile però però è stato così bello poter poter aprire uno studio di registrazione ho fatto il passo più lungo dalla gamba sì ho fatto il passo più lungo dalla gamba però mi sono tolto un sacco di satisfazioni poi ho dovuto lavorare tanto quello sì però finché ho avuto l'energia ci mancava l'altro insomma era anche bello quindi quindi dipende anche un po' cioè per esempio puoi puoi decidere di di bere di meno di consumare di meno di però però è bello anche no? cioè scegli e invece diciamo quelli che tradizionalmente anche tu hai appena fatto una battuta sono quelli che ci fanno i soldi eccetera i discografici tanto vituperati e sempre vituperati non è un po' anche un luogo comune un capro spiatorio questo del discografico cattivo e che fa sempre ti fa sempre fare delle cose mediocre cioè la musica facile quanto è una scelta dei discografici appunto interessati e avidi o quanto è semplicemente poi quello che sta nella richiesta nella domanda del pubblico guarda il pubblico sceglie di ascoltare scegliendo tra quello che riesce a sentire quindi le scelte del pubblico sono orientate e condizionate dal programma delle radio per esempio ora le radio libere non esistono più esistono le radio commerciali le radio commerciali il loro obiettivo è vendere più cara possibile più pubblicità il loro obiettivo quindi non è divertire te cioè fanno divertire te per poter incassare di più quindi se la logica è quella sai se il tuo direttore artistico in realtà è il tuo direttore commerciale capisci che la logica diventa un'altra cioè adesso credo che escano almeno 1200 dischi alla settimana come fai a scegliere anche solo come fai a tenerti aggiornato dipende da qualcuno che sceglie per te ora ti trovi degli amici o degli operatori radio bravi che ti aiutano eccetera però di fatto quello che succede è che devi scegliere e e quindi non è che hanno sparato il gas esilarante e siamo rincoglioni di tutti siamo un po' nati rincoglioniti però siamo però meno un po' meno allora la regola che cos'è è che c'è musica nel mondo c'è musica bella anche e che non si riesce a scoprire si fa sempre più fatica a trovare e purtroppo c'è gente che viene persa per strada che è partita bene ma non è riuscita ad appoggiarsi bene però poi adesso c'è anche un'altra cosa il desiderio generale di tutti noi o la maggior parte di noi quando abbiamo cominciato negli anni 60 negli anni 70 è che noi volevamo diventare dei bravi monogisti adesso il desiderio di base è voglio avere successo questa cosa cambia quello che vuoi fare la tua disponibilità cioè diventi un marchettaro per natura se non stai attento no? questa è una cosa che ti volevo che ti volevo chiedere appunto perché a me capita molto c'è una versione così musicale della formula e del concetto per cui finirete tutti ti notai come dice quello cioè che a un certo punto della vita si comincia a dire la musica di oggi fa schifo era molto meglio quella di cui quando ero giovane io che è la stessa cosa che si è sentito dire diciamo dai propri genitori a suo tempo eccetera è una cosa che a te capita? guarda io credo che io credo che oggi si scriva della bellissima musica ma si fa fatica a trovarla e quindi questa condizione un po' quello che ci sta intorno anche la percentuale di gente che si costruisce un personaggio e un linguaggio per avere successo è sempre più alta e quindi c'è una percentuale di cose sempre meno ascoltabili piuttosto alta però c'è un sacco di musica bella in giro ancora hai capito? poi fra l'altro siamo in un periodo in cui non so su esempio degli americani per esempio si sta ricominciando a a a a a a seguire soul a seguire rhythm and blues a seguire cioè c'è c'è molta possibilità adesso di muoversi certo si fa molta fatica si fa molta fatica perché 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 purtroppo trovare un lavoro è non è facilissimo cioè se capisci che se tu hai il 40% almeno dei giovani disoccupato hanno un posto di lavoro se questi vogliono costruire una cosa per il proprio futuro è ovvio che scelgano il più possibile una cosa che ti faccia avere successo anche perché poi nel caso si abbia successo il successo è tanto i soldi sono tanti sono sempre meno quelli che hanno un successo grande e poi non dimentichiamo che il mercato si è molto ridotto no? tu sai quant'è il disco d'oro oggi? 22.000 copie compresi i download fisicamente c'è qualche migliaio di copie che vengono vendute quando ho cominciato io il disco d'oro ero un milione di copie ma tu hai parlato di appunto molta buona musica che si fa poi naturalmente i giudizi sulla buona musica hanno una parte effettivamente diciamo così oggettiva e poi una parte molto soggettiva di ciascuno di noi però c'è un uno dei fattori e degli elementi che sono in ballo quando si giudica la buona musica diciamo non sempre essenziale però c'è è l'originalità no? di qualcosa che sia nuovo che prima non si è sentito su questo io appunto cercando anche così di giustificare quel meccanismo di prima per cui l'impressione è che poi la musica di una volta fosse meglio eccetera la cosa che che io mi sono chiesto delle volte non è anche che quando ero giovane io quando eri giovane tu il repertorio di musica la musica di cui noi stiamo parlando stasera naturalmente diciamo quella che abbiamo chiamato per un po' chiamavamo musica leggera ma insomma il pop il rock il repertorio della musica prodotta era comunque di un paio di decenni o tre decenni oggi stiamo parlando di molto più tempo molte più cose fatte la domanda è non è molto più difficile inventarsi cose nuove si lo è è difficile essere originali no? perché si va a che fare sempre di più con cose che qualcun altro ha già analizzato ha già cominciato a fare e soprattutto tu fai hai difficoltà a costruirti un linguaggio nuovo perché tu per costruirti un linguaggio nuovo o sei uno che non ascolta niente si butta lo prende lo fa fortuna eccetera eccetera se no se tu devi se devi cominciare a costruire un linguaggio nuovo devi avere il tempo di ascoltare e studiare ascoltare e studiare adesso porta via un sacco di tempo porta via un sacco di tempo possibilità ce ne sono sempre meno e poi poi sai allora c'era tanto da fare cioè persino noi abbiamo deciso avevamo una nostra preparazione musicale venivamo tutti da un po' di preparazione di musica classica ed 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 e tutto assieme abbiamo trovato la nostra possibilità di mediare di costruire un linguaggio nuovo adesso essere originali però guarda esistono ci sono alcune radio ancora adesso che tu ascolti che almeno una non so una volta alla settimana fanno sentire le novità e penso che nelle novità c'è molto più cose originali di quanto tu non senti non creda e che in realtà bisogna 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 avere pazienza ecco questa è la tragedia sì la mia impressione diciamo che quelle cose originali comunque oggi ma lo dico diciamo ritenendolo anche forse inevitabile comunque inevitabilmente attingono molto le riprendono molto no cioè con rispetto parlando per l'uso dell'espressione ma ai tuoi tempi con la pfm potevate veramente inventare delle cose no oggi inventare sì tu forse mi dirai che già allora attingevate molto già allora avevamo i nostri riferimenti cioè noi abbiamo cominciato conoscevamo bene Kane Grinson e li abbiamo tirati giù li abbiamo imparati sai avere la possibilità di avere un gruppo che ti insegna però sai voglio dire già prova a pensare a quanto sono stati importanti i Beatles cioè i Beatles ci hanno provato a fare i conti penso a quanti pezzi ha scritto Paul McCartney alcuni così e così altri capolavori capisci quello che succedeva però era che c'era una dedizione alla costruzione della musica e alla costruzione della propria identità che adesso è diversa però se noi pensiamo non so si pensa sempre che il 67 il 1967 sia stato uno degli anni fondamentali per la storia della musica per la storia della musica leggera diciamo così però se tu pensi che nel 67 da 67 al 70 nel 67 sono esorditi i Krim i Beatles hanno fatto Sgt. Peppers hanno esordito i Pink Floyd hanno esordito adesso non me li ricordo nel libro ci sono c'è una c'è una lunga lista che però non so Jimi Hendrix Jimi Hendrix ha esordito nel 67 è morto nel 70 in quei tre anni ha scritto cinque dischi uno più bello dell'altro uno più geniale dell'altro ha avuto anche tempo di andare in crisi mi capito da quanto era bravo e dotato e così pure non so ok per esempio e questo come ce lo spieghiamo che quel periodo sia stato così prolifico secondo me c'era anche che eravamo tutti stati baciati dall'utopia cioè beato l'uomo che viene baciato dall'utopia cioè tu la capacità di sognare cioè noi eravamo sicuri che da vivi avremmo visto un mondo sostanzialmente migliore di questo Dio sa come ci sbagliavamo però sai questa capacità di crescere di costruire di fare ti viene anche dal fatto che posso fare tutto perché tutto mi è permesso posso fare non avrò successo adesso avrò successo in foto cioè la possibilità di sognare la disponibilità a cambiare a costruire eccetera eccetera è legata anche al fatto pensa tu hai notato che negli ultimi anni quanti cantanti hai visto che hanno avuto successo ma grosso 150 milioni di visualizzazioni eccetera eccetera e dopo tre anni non ne senti più parlare che è tristissimo per loro capisci è un po' come se tutta questa cosa giustificasse la scelta di fare tutto al volo e subito disposti a tutto di farlo pur di acchiappare tutto quello che puoi acchiappare e questo come ce lo spieghiamo perché c'è troppa competizione troppo necessità di rinnovamento in realtà dall'altro lato c'è troppo poco lavoro cioè la possibilità di fare il cantante eccetera eccetera è la possibilità di avere successo è fondamentale però io mi ricordo che quando io ero ragazzo ho deciso di andarmene di casa ho deciso di andarmene di casa ho trovato da suonare nei nightclub prendevo magari 10.000 lire al giorno però mangiavo con 600 lire dormivo in pensione con 1200 lire per cui avevo anche i soldi per pagare gli strumenti a rate e poi avevo contratti di lavoro che avevano un mese due mesi tre mesi adesso è difficile non ci sono più i club i ragazzi dove vanno a suonare i club sono posti per amatori oramai una volta non so io quando ho cominciato a suonare al nightclub il locale non aveva l'impianto cioè l'impianto era quello di chi andava a suonare per cui se tu non suonavi non stop non c'era musica per cui però e quindi siccome suonavamo dalle nove e mezza alle due e mezza alle tre tutte le notti tu praticamente suonavi cento pezzi cento pezzi che dovevi sapere che dovevi studiare dovevi preparare e non c'erano scuole cioè non c'era adesso tu vuoi fare il chitarrista blues guarda qui a Torino leggere se sono almeno dieci scuole di blues oppure a Milano qualunque tipo di genere musicale ti insegnano allora l'unico modo era si comprava il disco prima di tutto si andava a cercare i dischi poi li compravi li portavi a casa tiravi giù le parti te li imparavi a memoria poi le cominciavi a suonare prima volta facevi tre errori poi due errori poi uno poi piano piano crescevi però eri messo nelle condizioni di poterlo fare adesso non c'è lavoro cioè non c'è proprio il lavoro per cui in realtà tu o sei uno che ha successo e prende fa le date e roba così guadagna guadagna anche un sacco di soldi adesso si guadagna di più c'è chi guadagna guadagna di più di una volta non so se questo è vero perché se penso alle quantità di soldi è emerso anche quando li frequentavate e no ma cioè quelli lì guadagnavano il loro problema erano le tasse inglesi cioè perché allora in Inghilterra la prima volta che siamo andati in Inghilterra noi nel 73 l'Inghilterra era al limite dello sfacelo economico e si pagava l'80% di tasse se tu capisci che è per quello che sono andati tutti in Francia in andavano anche in Africa qualunque posto potevano andare ma perché in Inghilterra non riuscivano a starci dentro però no no io sto parlando della possibilità di 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 guadagnare soldi sai devo dire si vendeva tanto gli ischi pagavano di meno le case tecografiche loro pagavano di meno gli anni gli anni di grande di grande successo di valanghe di soldi sono stati gli anni 80 e gli anni 90 dove io non facevo più la popo star quindi li sono giocati tutti però quali sono stati anni in cui il mercato si era gli artisti si erano svegliati e c'erano sempre comunque valanghe di possibilità di si vendevano valanghe di dischi però 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 non mi ricordo più cosa mi avevi chiesto ma guarda no eravamo diciamo ci eravamo già allontanati ma nel frattempo mi è venuta da chiederti un'altra cosa visto che tu hai cominciato dicendo diciamo e anche dimostrandolo con le cose che dicevi di essere ottimista e quindi diciamo in questo contesto in questa situazione di cui tu parli quali sono i percorsi possibili appunto della buona musica ci sono? guarda io ormai ormai mi capita spesso che di avere amici che hanno figli che vogliono studiare o suonare e vengono a chiedermi un consiglio da professionista io l'unica risposta che posso dare è per fare il murecista oggi di mestiere devi non avere scelta cioè devi amare così tanto la musica di essere capace di essere disposto a sopportare qualunque cosa ma qualcosa ti permetterà di sopportare tutte le umiliazioni il fatto di non avere soldi il fatto di magari provarci tutta la vita e non riuscire a farlo bisogna non avere scelta oggi se no io suggerisco a tutti di farlo per un laureo di lettantismo hai capito? si può suonare benissimo da bravi dilettanti avere dei granditi amici con cui suonare si può essere felice questo ti rende più libero perché non ti obbliga a pagare la pagnotta e questa diciamo però appunto è un percorso di chi vuole fare buona musica sì ma c'è un percorso appunto per cui noi pubblico veniamo raggiunti da della buona musica o possiamo entrare in contatto con della buona musica bisogna avere delle buone radio ascoltare le buone radio che ci sono quindi sì ci sono ci sono però magari anche loro devono abituarsi ad adattarsi però se si impara ad ascoltare in ogni radio non so c'è un bravo dj che una volta alla settimana fa un programma di due ore dove ti fa sentire le novità le novità migliori lì c'è sempre un sacco di roba di solito poi certo se si ascolti un programma di un marchettaro ti cioè devi imparare un po' a scegliere ma in realtà in realtà c'è tanta roba c'è c'è tanti musicisti davvero io caccerei un bel po' di discografici questo sì state sempre a parlare male dei poveri discografici eh ma dai se la cercano e poi e poi in realtà sono cioè se tu pensi che ultimamente le case discografiche assumono solo gente al massimo di 25 anni gente che ha più di 25 anni è considerata vecchia capisci che è un po' difficile eh e poi ma è vero diciamo chi è che paga di più per la musica oggi i giovani perché diciamo sono un pubblico più largo o i vecchi perché hanno più soldi in tasca ma guarda ehm le proporzioni sono diverse io non ho non so i numeri esatti però ehm ci sono i giovani stanno cominciando stanno cominciando a riscoprire per esempio il vinile il vinile è una parte sempre più ampia è una fetta di mercato sempre più ampia certo non è come come una volta hai capito però io conosco anche molti ragazzi che hanno il vinile e poi non hanno il girodischi che funziona per cui non sanno bene come ascoltare i dischi no ma però il vinile è ancora una bella cosa da comprare è un bell'oggetto è grande riesce a leggere i testi cosa che non riesce non riesce a fare coi cd e roba così poi adesso sta diventando una sia un po' un po' molto snob nei confrutti del cd si dice ah il cd basta eccetera eccetera in realtà il cd ha avuto un'ampiezza di mercato enorme il cd ha quella sfortuna lì che è rimasto preso in mezzo cioè non è bello come il vinile no e quindi appunto non ha goduto di quella riscoperta della fisicità e della qualità però però il vinile è abbastanza noioso bisogna pulire i vischi tutte le volte le puntine si rovinano bisogna girarlo dopo un quarto d'ora esatto bisogna girarlo dopo un quarto d'ora eccetera eccetera però devo dire il vinile si porta dietro un un affetto un una modalità quasi romantica per cui lo ami per quello e lo tratti per quello che è però detto fra di noi il 90% dei cd non suona così bene come si racconta dei cd o dei vinili scusa dei vinili perché a un certo punto c'era tutta quella vulgata strasnob per cui il vinile si sentiva meglio del cd in realtà non me la raccontano era così? in realtà non è proprio vero bisogna cioè ci vuole un cd fatto bene ci vuole un buon impianto per cd certo che se tu hai l'impiantino che sotto i 120 hertz non 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 trasmette niente eccetera eccetera qualunque cosa è brutta cioè se mettessi un un vinile trasmesso dello stesso impiantino suonerebbe peggio in realtà il vinile il vinile è è ha un grande fascino ha il fascino della storia ha il e poi mediamente se è prodotto bene il vinile suona bene suona meglio di molti cd che vengono e venivano prodotti così a cazzo però però un di A a D no c'era a un certo punto quelle quelle nomenclature gli A a D gli A D D i D D a seconda diciamo dell'elaborazione di G il massimo era A A A naturalmente analogico 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 però è appunto bisogna sta diventando anche un'abbastanza costoso perché le puntine costano durano poco bisogna stare attenti certo che il cd scusami certo che il vinile ha una ha un fascino cioè lo guardi ancora oggi io ieri sono andato a a ero a Arezzo per fare una presentazione nel libro e c'era la fiera dell'antiquariato c'era la fiera dell'antiquariato ed ero in giro con uno che era che avevo organizzato la cosa della sera prima e che era un patito di 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 dischi di vinili no e ci siamo fermati e c'era questa bancarella di vinili e c'erano dei vinili meravigliosi e ho cominciato a guardarli una via l'altra cioè erano oggetti belli erano proprio oggetti belli ma scusa appunto ti chiedo una cosa su questo che tu lo citi in passant nel libro perché diciamo io allora ero troppo giovane e pivello e sentivo dire queste cose ma non le ho mai ferrate bene perché erano importanti i dischi di importazione no allora mettiamola così i dischi di importazione erano importanti in genere perché si stampava con del vinile migliore spesso le case discografiche italiane usavano vinile riciclato quindi la qualità era c'era addirittura se li guardi bene erano anche più sottili si più sottili e poi c'era addirittura o intanto c'era qualche pezzo di carta in mezzo a vinili perché venivano ristampati venivano fuse di nuovo dei pezzi di vinile e fondevano anche l'etichetta insieme però in realtà l'importazione per noi è stata veramente importante se si poteva aggirare il problema soprattutto nel periodo tra la seconda metà degli anni sessanta e i primi anni settanta perché l'industria discografica italiana viveva con dei contratti di distribuzione preferenziali cioè tu per esempio non so compravi non so i dischi della decca compravi i dischi della decca ed erano buoni però non li trovavi in Italia prima di tre o quattro mesi o sei mesi dalla pubblicazione straniera perché le case discografiche italiane volevano avere e l'avevano ottenuto per contratto la libertà di poter uscire con una versione italiana di questo pezzo quindi in realtà preferivano pubblicare prima diciamo le versioni italiane certo così vendevano due volte lo stesso materiale cioè vendevano prima in mezzo al traffico eccetera eccetera e poi invece poi usciva tre o quattro mesi dopo cinque mesi dopo l'originale e ti dicevi oh cazzo e allora per dire noi andavamo una volta al mese spesso anche due volte al mese andavamo a Lugano perché a Lugano c'era la possibilità di cioè c'era già l'importazione diretta perché loro non avevano case discografiche autonome no e d'altronde era un po' così per cui in realtà era l'importazione l'importazione diretta era c'era la doppia lettura qualità di realizzazione anche i vinili più alti più spessi il mercato era più forte ti chiedo un'ultima cosa di curiosità il libro di Mauro diciamo poi stasera abbiamo approfittato per parlare di molte cose di musica e discografia ulteriori anche per diciamo non spoilerarvi il contenuto del libro il libro di Mauro diciamo è fatto molto più anche di racconti appunto che alludono alle cose che abbiamo parlato ma è fatto molto più di racconti e di percorsi di aneddoti e anche diciamo molto motivati e spiegati delle successive lui stesso le definisce successive vite che ha avuto e diciamo l'ultima di queste tue successive vite l'hai citata anche stasera forse quella rispetto al tuo rapporto con la musica è quella di produttore oltre che di gestore di una sala di registrazione che cosa fa il produttore perché è importante il produttore il lavoro principale del produttore è aiutare un artista a difendere i propri pregi e a difendersi dei propri difetti cioè tu ai lavori hai a che fare con uno lui deve ascoltare quello che lui fa e devi avere anche l'indipendenza e in fondo anche l'intelligenza di ascoltare e dire bene questa cosa la spingiamo lo spingiamo a farla e invece quest'altro suo desiderio perché tutti almeno tutti gli artisti hanno qualche strano sogno no? cioè sai quanta gente vorrebbe essere Mick Jagger e poi in realtà è un brevissimo autore di canzoni diversissimo da quello no? allora se sei un produttore scadente magari vuoi tu diventare il produttore di Mick Jagger lui non avrebbe voglia però cerchi di convincere il tuo artista a diventare Mick Jagger e non funziona mai hai capito? oppure invece uno bravo ti difende da questa cosa e ti aiuta a raccontare meglio te stesso a prendere la strada giusta no? quindi in realtà ognuno di noi dovrebbe avere un produttore no? perché nella vita dici è certo quindi e quindi in realtà va bene mi sembra che hai diciamo azzeccato anche la conclusione di questa serata il libro di Mauro è pubblicato da Bonpiani e si chiama nove vite e dieci blues grazie molto al circolo grazie a tutti voi grazie a Mauro che credo diciamo firmerà le copie qui di chi vuole non se ne parla neanche grazie grazie